Ormai una cosa è certa è che certi partiti politici considerano la lotta politica quasi come un campionato di calcio, per cui deve vincere la squadra e per far vincere la squadra ne inventano di tutti i colori, come nel calcio, strategie di qui, strategie di là e non importa se poi la strategia di oggi contraddice quella di ieri, l'essenziale per questo o quell'altro partito politico dell'opposizione è riuscire a vincere e riuscire ad arrivare allo scudetto, non ci arriveranno naturalmente e non è assolutamente nessun attacco alla democrazia il fatto che il governo abbia messo la fiducia per far finalmente approvare questa legge elettorale che chi la contesta oggi l'aveva già approvata alcuni mesi fa al Senato ed oggi vorrebbe rimescolare le carte. Quello che è a rischio in tutto questo gioco è l'onestà intellettuale, l'onestà intellettuale di tanti politici che oggi dicono una cosa che contraddice nettamente quello che hanno detto l'altro ieri. Grazie a tutti.